Oggi il pinta tappa, Miano-Berceto, 45 km, 47 km, 1100 m di sviluppo. Oggi siamo partiti da Miano, dal Vedembrex, con la catena rappezzata e siamo arrivati a Fornovo di Taro, dove un meccanico che riparava dai mieti treppi, ai decespugliatori, alle moto, alle bici, a qualunque cosa, in 4x48 ci ha cambiato la catena della bici e la bici è ripartita come nuova. Facendoci pagare solo la catena? Sì, la catena. È stata impegnativa, nel senso che era una salita abbastanza continua. Un paesaggio molto vario, molto bello. Siamo passati da boschi di querce, latifoglie, fino ai mille metri colpini, con gli aventi. Siamo veramente un paesaggio da l'aria. A Berceto, stasera ci siamo fatti un bel giretto molto carino. Aria fresca, 800 metri di livello, si sta benissimo. Sì! Ci ho aggiungo. Grazie a tutti.